Un modo di dire molto conosciuto recita ditelo con i fiori ma se facciamo fede a questo detto e pensiamo a cosa sta succedendo per le vie del centro di Fano in queste serate non è che ne viene fuori un gran bel messaggio. Tutti sanno ed hanno visto passeggiando in centro che per la festa dei fiori ribattezzata non a caso Fano fiorisce che si terrà il prossimo fine settimana le vie del centro sono appunto fiorite. Angoli e fioriere davanti agli esercizi commerciali fanno bella mostra con i loro colori di giorno e di notte con scarso senso civico e pensando che forse certi fiori starebbero meglio nei propri giardini o sul davanzale di casa propria che li rubano o li danneggiano in barba a quanti invece stanno lavorando in queste ore per fare di Fano fiorisce una bella e coinvolgente manifestazione per tutta la città. Purtroppo ci siamo ritrovati che di notte qualcuno comunque ha già portato via delle piante, ha rotto dei vasi e ha fatto comunque dei dispetti. Allora noi ci appelliamo proprio al senso civico delle persone e soprattutto di quelle persone che hanno creato questi disagi che non facciano in modo che succedano appunto queste cose e facciamo appello proprio al senso civico delle persone che riescano a capire di tutto quello che noi ci abbiamo messo e che facciano in modo che questa settimana, ma questo vale sempre diciamo tutto l'anno per sempre appunto che ritrovino questo senso civico, cercare di curare e tenere la città in un certo modo.